ciao è da molto che non ci vediamo c'è da dire che non mi faccio sentire però sono online su instagram quello che volevo dire tra me il rapporto essenza è finita ormai sono veramente sono stanca per queste relazioni tra l'amore quindi d'ora in avanti non voglio più avere a che fare con le persone che collaborano con gli hater quindi mi sentirete molto stressata e tremante perché sono stufa di sentire gli hater che mi appesantiscano piena di offese comunque grazie per i 140 iscritti veramente mi avete fatto un regalo che quasi impossibile su instagram sto crescendo con un po e adesso sto programmando il mio futuro e devo comportarmi esattamente come una ragazza onesta non disonesta se ormai l'avete già capito non non posso più continuare questo ciclo repetitivo ormai sono stanca di essere offeso pesantemente tutti i commenti che vedo non parlo di iscritti che non sono i terma parlo veramente dei hater che mi appesantiscono il video che ho fatto su arcao skyrie e ancora sto ancora preparando alcuni episodi arcius my room e poi sono anche stufa di questa quarantena sono anche stufa che non si può fare tutte le cose che si facevano in passato sono stufa che il mondo viene contagiato da questo coronavirus e sono anche stufa di portare una mascherina sono stufa di tutto ragazzi quindi per forza mi prenderò una pausa non sto scherzando prenderò una pausa ma non disiscrivetevi perché mi toccherà fare un altro video con musica di sottofondo anonimo sono anche stufa dei reti dei miei fratelli sono anche stufa stufa di di questo enorme peso che ho non sto parlando della mia malattia ma sono stufa del peso che non posso ancora dirvi finché non raggiungiamo i 200 iscritti non ancora non posso dirvi com'è questo peso come un altro video con musica di sottofondo a vedere allora ma 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 Grazie a tutti.